Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica Partenopea, sezione Reati Economici, ha sequestrato su disposizione del GIP del Tribunale di Napoli disponibilità finanziaria su conti correnti bancari per oltre 1.600.000 euro ad una società che cura gli interessi sportivi e l'immagine di calciatori professionisti, fra i suoi assistiti Di Lorenzo, Mario Rui, Usai e Veretù della Roma. Il legale rappresentante ed altri 5 responsabili sono indagati per dichiarazione fraudolenta e demissione di fatture per operazioni inesistenti. In particolare il Nucleo di Polizia Economico-Finanziera di Napoli ha raccolto elementi tali da far ritenere che la stessa società avrebbe utilizzato fatture false per gli anni 2018 e 2019 per un importo complessivo di oltre 3 milioni di euro, con un conseguente e legito risparmio di imposta di circa 1.600.000 euro. Il sistema fraudolento veniva perpetrato attraverso l'emissione di fatture da parte di compiacenti associazioni sportive e direttantistiche per fittizie e prestazioni fornite alla società indagata e al fine di dare pervenza di effettività all'operazione, la società utilizzatrice avrebbe effettuato i pagamenti attraverso bonifici sui conti correnti delle emittenti. Subito dopo le somme sarebbero state prelevate quasi sempre in modo frazionato e istituite, tramite una serie di complici al rappresentante legale della società utilizzatrice.